Costantini, si parla tanto di approvazione del nuovo statuto, della nuova Pescara, ma qual è il cuore del problema e quali sono i problemi che rivendicano le varie amministrazioni? Partiamo da un presupposto. La legge stabilisce che i comuni che decidono di avviare un processo di fusione possono definire i confini e i contenuti fondamentali dello statuto prima ancora che il nuovo comune nasca. Quindi noi ci stiamo muovendo esattamente all'interno del perimetro della legge. La stessa legge dice che i comuni che si fondono possono decidere l'istituzione di municipi. Per quale ragione? Per garantire la conservazione del profilo identitario, degli aspetti storici, culturali, sociali ed economici delle comunità che abbandonano la loro origine e che si fondono all'interno di questa grande comunità. Quindi anche l'istituzione dei municipi non è un'invenzione ma è qualcosa di previsto dalla legge. Noi ci siamo mossi nel solco di quanto previsto dal legislatore e abbiamo stabilito che i municipi dovrebbero essere quattro, Montesilvano, Spoltore, Pescara Nord e Pescara Sud. La discussione si è sviluppata sul numero dei consiglieri di municipio perché evidentemente le proposte che sono arrivate da Montesilvano e da Spoltore ci sono apparse un po' esagerate. 24, 16, 4 presidenti di municipio, 4 vicepresidenti di municipio, 4 giunte di municipio, davvero un po' troppo. Per queste ragioni il comune di Pescara, d'intesa tra tutte le forze politiche, ha deciso di preparare delle proposte emendative che fondamentalmente lasceranno invariata la struttura della bozza di statuto per quel che riguarda i municipi, ma proporrà una riduzione del numero del ceto politico per evitare che la fusione comporti il superamento di determinate difficoltà e dall'altra parte determini l'ingresso di nuove difficoltà. Perché leggere 120, 130, adesso non so con esattezza quanti sarebbero consiglieri di municipio e consiglieri comunali sarebbe davvero un eccesso. Però, ripeto, io non credo che in questo ci sia nessuna avversione nei confronti di Montesilvano e di Spoltore, siamo tutti d'accordo, tutte e tre i comuni, sulla necessità di istituire i municipi, siamo anche d'accordo sul fatto che i municipi debbano avere delle funzioni importanti che non siano solo simboliche ma che siano anche sostanziali. Adesso dobbiamo semplicemente definire la struttura dei municipi. Fatto questo passaggio potremmo anche occuparci di altro. I tempi devono essere necessariamente entro il 30 settembre perché qualora non riuscissimo come Assemblea Costitutiva ad approvare la bozza di statuto entro il 30 settembre dovremmo andare a votare nel 2024 direttamente per la nuova Pescara perché la legge regionale lo dice con chiarezza. Se si conclude questa fase entro il 30 settembre la data dell'istituzione del nuovo comune è slitta al 2027. Qualora non dovesse concludersi entro il 30 settembre la data dell'istituzione del nuovo comune coinciderebbe col 2024.